E' ben tornati in diretta per Primo Cittadino, il programma di Fano TV che ormai da mesi ogni lunedì sera ospita i vari sindaci della provincia di Pesero Urbino. Il protagonista di questa puntata è il sindaco di Acqualagna, Andrea Pierotti. Buonasera sindaco. Ciao, buonasera, buonasera a voi. Vi ricordo che come sempre potete intervenire in diretta telefonando i numeri che fra poco, eccoli qua, vedete in sovraimpressione, in diretta allo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un breve messaggio di testo anche con Whatsapp al 338 49 68 250. Pierotti, lei è alla guida del comune di Acqualagna dal 2009, come si sente oggi che ormai è alla fine del mandato perché mancano insomma pochi mesi? E' soddisfatto dei vari risultati ottenuti in questi anni? Sì, c'è un po' di ansia perché molte cose vanno chiuse prima della fine e quindi c'è quel sentimento lì, ma tanta soddisfazione, anche grazie a qualche bella notizia che è arrivata di recente e che mi ha rassicurato, rassicurato tutta l'amministrazione, quindi devo dire che sono veramente contento, soddisfatto del lavoro fatto e di quello che insomma ho potuto dare per Acqualagna. Quindi è stata una bella faticace perché i decenni sono tanti. Una bella sfida? Una bella sfida, sì sì, è una bella esperienza che ricorderò ovviamente per sempre come penso tutti i sindaci di ogni comune, però devo dire ecco, chiudo bene, sono molto contento. Fra poco annunceremo anche questa novità che appena ha citato, intanto parliamo di questi dieci anni, un breve bilancio. L'indebitamento è stato ridotto? Sì, una delle soddisfazioni principali è anche che è quella più difficile da trasferire ai cittadini perché parlare di bilanci, di contabilità non è facile, però ecco il bilancio del comune di Acqualagna aveva alcune criticità che si sono sommate alla crisi economica e alla riduzione dei trasferimenti dello Stato, tutta una nuova, un impianto di contabilità pubblica che è cambiato ed è stato molto diciamo penalizzante per i comuni. E quindi far fronte a questa situazione non è stato facile, abbiamo messo in piedi tutto quello che poteva essere fatto per risparmiare e soprattutto i tanti investimenti fatti sono stati fatti senza ricorrere all'indebitamento ma partecipando a bandi e ottenendo finanziamenti dall'Europa, statali, regionali. Siete stati bravi a intercettare. A intercettare anche perché appunto non potendo fare mutui gli investimenti si possono fare solo in questo modo, per cui questa è stata una grande capacità, anche un po' di fortuna sicuramente perché ci vuole sempre e di conseguenza non facendo mutui l'indebitamento si riduce, si riduce di molto. Tant'è vero che ho fatto una proiezione che se si continuerà nei prossimi due, tre, quattro anni a non fare mutui potrebbe addirittura essere azzerato. Per cui ecco consegno anche dal punto di vista dei conti, dal punto di vista finanziario una macchina che torna ad essere competitiva. Possiamo dire che uno dei vostri cavalli di battaglia sono state le scuole? Sì, di grande soddisfazione. Quindi ecco appunto realizzare una nuova scuola materna senza prendere un mutuo è stato motivo di grande soddisfazione. Non è stato facile, ma mettere insieme tanti finanziamenti, tanti contributi e dare alla città una scuola materna nuova, ai bambini ovviamente soprattutto. E questo non solo la bella scuola fatta con tutti i crismi della sostenibilità, della salubrità, ma anche i risparmi che si derivano. Perché abbiamo dismesso una vecchia scuola in locazione, quindi il risparmio dell'affitto e il risparmio delle spese di funzionamento portano circa 30.000 euro all'anno di risparmio di spese correnti. Quindi non solo la scuola nuova, ma anche questo risparmio. Ma poi tutte le scuole sono state messe in sicurezza dal punto di vista sismico, adeguate dal punto di vista sismico, riqualificate dal nido alle scuole medie, quelle del capoluogo e quelle della frazione di pole che appunto ha un plesso scolastico importante perché è una scuola materna, una scuola metà. Dovremmo avere le immagini anche proprio di quella frazione, realizzate con il drone, molto molto belle, insomma suggestive. Siamo a un'altra prospettiva, vediamo che ci sono anche diversi pannelli solari, insomma, quindi avete puntato anche su un bel investimento ma anche porterà ad un risparmio. Sì, abbiamo sui tetti degli edifici pubblici quasi 200 kilowatt, questo porta ogni anno sulle casse del comune quasi 100.000 euro l'anno, per cui è un investimento che si ripaga e che ormai porta tutto guadagno, ma oltre al discorso sostenibile, poi fatto nelle scuole ha una doppia valenza perché i ragazzi e i bambini vedono la riduzione della CO2, l'energia prodotta, quindi c'è anche una valenza didattica. Iniziano a capire un po' come funziona la tutela dell'ambiente. Insieme alla tartufaia scolastica, insomma che non può mancare in Accolagna la tartufaia a servizio, insomma i bambini devono subito capire come funziona, come nasce il tartufo. E dicevamo insomma di questo adeguamento anche nella palestra. Sì, la palestra è stata completamente riqualificata, adeguata, l'asilo nido, le scuole medie e ora l'ultimo pezzo che è quello delle scuole elementari, che abbiamo avuto un finanziamento, abbiamo già fatto la gara. Appena si chiudono le lezioni, perché non vogliamo creare troppo fastidio all'andamento della scuola, inizieremo i lavori, partiranno i lavori di adeguamento sismico dell'ultimo pezzo. Per cui la soddisfazione è quella di consegnare degli spazi scolastici che sono sicuri e anche belli, nuovi, e quindi ordinati come si può immaginare, ecco come mi sembra che si veda, per cui questa è una grande soddisfazione sicuramente. Lei parlava appunto di sicurezza per questi alunni, invece la città, in che stato è attualmente videosorvegliata? Avete preso dei provvedimenti in tal senso? Abbiamo un piccolo impianto cittadino di videosorveglianza, ma sono quelle telecamere che si posizionano in alcuni punti strategici. Quelli di ingresso, ma sono solo telecamere. Con l'Unione Montana deve essere solo installato, ma già finanziato, anche in questo già appaltato, penso che siano in corso di realizzazione, abbiamo messo i lettori targa, quindi in ogni ingresso di quest'area, l'area che è dell'Unione Montana Catra e Nerone, quindi per ogni ingresso ci sono dei lettori targa che fanno le segnalazioni alle forze dell'ordine. Per cui, diciamo, facendo gli scongiuri, che è una fase dove si sta un po' più tranquilli, perché abbiamo subito anche dei cicli di assalto da parte dei ladri, che hanno in passato minato un po' di sicurezza e di tranquillità dei cittadini. Però, nonostante questo, sono molte sentite... Le forze dell'ordine, insomma, è sicuramente un bel aiuto per effettuare quelle varie ricerche. Esatto, quindi è un investimento importante, perché per un piccolo comune è sempre un investimento che, insomma, vanno pesati ogni euro, però è molto sentito dai cittadini e dalle forze dell'ordine. Dal punto di vista demografico, dobbiamo dire che il comune è abbastanza stabile, di quei 4.400 abitanti che nei vari anni comunque è stato mantenuto. Sì, anche questo, perché poi uno si affatica e cerca di prendere i soldi per fare le scuole, per dare i servizi, il trasporto scolastico, la mensa, gli impianti sportivi, però poi ci deve essere una popolazione che ne esufruisce. Quindi, ecco, bisogna una grande lotta che hanno tutti i comuni, ovviamente in primisi i comuni dell'area interna, che vivono una situazione un po' di spopolamento. Da questo punto di vista la popolazione della Colagna è abbastanza giovane, è stabile e quindi anche questo ti dà un po' di speranza per il futuro, perché, ecco, forse gli investimenti fatti servono a qualcosa, serviranno a chi c'è, ma potrebbero anche essere di stimolo, insomma, a chi vive in Acqualagna, ma sta pensando dove vivere il resto della propria vita, no? Vogliamo inserirci in quella riflessione che si fa quando si decide dove abitare, sulla base di tante considerazioni, ovviamente, però vogliamo mettere il dubbio, se possibile, quindi di stare in Acqualagna, di vivere in Acqualagna perché ci sono le scuole, perché ci sono i servizi, sia scolastici, sportivi, a delle atteriffe che sono molto basse, perché, ecco, contiamo su quello, cerchiamo di non gravare sulle famiglie, quindi mettere soldi di bilancio comunale per poter consentire di usufruire di questi servizi a costi bassi, ma servizi che hanno una serie di qualità. Quindi, ecco, mettere al centro le persone che sono in crescita, un po' questo l'obiettivo. Va fatto tanto lavoro ancora, perché ci siamo preoccupati molto delle strutture, e ora bisogna lavorare anche al contorno. Quindi pensate sostanzialmente ad un paese a misura di famiglia, un po' adatto a tutti. Mi diceva dei lavori, tanti ancora i lavori da fare per le asfaltature, sono in programma per la prossima primavera? Sì, ovviamente anche con i fondi del Ministero dell'Interno, 50 mila euro che verranno utilizzati proprio per la messa in sicurezza di alcune strade che sono un po' più disastrate. In passato abbiamo avuto un investimento importante di un milione di euro con il programma 6 mila campanili, che ci ha consentito di mettere una bella pezza sulle strade comunali. Quindi c'è da fare un po' di rifinitura. Mentre la prima opera di aria d'urbano che viene fatta, in effetti, importante in questi dieci anni, è quella che è adesso in via di realizzazione. I lavori sono partiti da diverso tempo, e sarà, ecco, potrò dire di aver contribuito anche a riqualificare dal punto di vista urbanistico e di arredo del centro storico di Aqualagna. Quindi spero che i lavori vadano avanti in maniera celera per poter vedere la conclusione da sindaco di questi lavori. Certo, e appunto qui abbiamo la novità proprio anche riferita al centro storico. Intanto abbiamo una domanda per lei. Che cosa ne pensa il sindaco della nuova legge sul tartufo? Ecco, ovviamente per parlare di Aqualagna bisogna assolutamente parlare di tartufo. una fiera che si svolge a livello nazionale, importantissima, proprio nel centro storico. Ecco, in quest'anno sarà la 54esima edizione, se non ricordo male. Esatto. Quindi vediamo le immagini del 2018, un evento importante a livello non soltanto provinciale, ma come dicevo regionale e nazionale. Ecco, ci sveli intanto la novità e poi rispondiamo al nostro telespettatore. Perché, insomma, dove per far capire a casa ci sono gli stand, quelli per esporre i propri prodotti all'inizio del corso. Ecco, lì che cosa verrà realizzato? Sarà una bella piazza, sostanzialmente. Sì, beh, la piazza sarà assolutamente riqualificata, esatto. Sarà riqualificata la piazza, il vecchio campo sportivo. E quindi, ecco, daremo una veste un po' più bella anche a... In particolare, in questo momento di grande visibilità, per Accolania, che è la Fiera del Tartufo. Quindi, sì, c'è grande soddisfazione per questo finanziamento avuto. Di quanto? Parliamo di 3 milioni e 200 mila euro a fondo perduto. E quindi... È arrivata la conferma. Sì, sono dieci giorni che è arrivata. Ancora è una notizia. Questa è veramente una notizia che ho condiviso con gli amministratori e con poche altre persone. Perché sto studiando un po' cosa si può fare nel dettaglio. Quindi per cercare... C'è sempre molta cautela perché... Però ormai sono dieci giorni e quindi stiamo lavorando ai progetti e perché non solo, appunto, il centro storico, il collegamento del centro storico con le frazioni e poi la riqualificazione degli impianti sportivi. C'è la grande necessità di riqualificare gli impianti sportivi dal campo di calcio. Aveva un palazzetto bellissimo, uno dei palazzetti più belli dell'entroterra, grandissimo che necessita di tanta manutenzione. Quindi lo sport ne avrà veramente beneficio. Ecco, per cui, quando dico città a misura di bambino, cerco anche di fare in modo che ci sia anche un orgoglio in senso di appartenenza, un orgoglio di appartenenza. Perché ospitare anche squadre da fuori che si trovano in un impianto tenuto bene, bello, è motivo di orgoglio anche per i cittadini. Quindi cercare di lavorare su questo senso di appartenenza che poi è una condizione fondamentale anche per il radicamento della popolazione. Per cui c'era veramente esigenza di riqualificare gli impianti sportivi e la piazza, quindi questi 3 milioni e 200 mila euro sono veramente la ciliegina, una ciliegiona. Proprio alla fine dei due mandati. Ora lavoriamo nei progetti perché i lavori devono partire entro 8 mesi, per cui dobbiamo correre. Per quello anche dicevano che lascerà un po' un progetto importante. Sì, questo e anche altri perché siamo all'interno della strategia nazionale delle aree interne, siamo un'area pilota, siamo all'Unione Montana e Catra e Nerone ci sono dei fondi, per cui ci sarà solo da gestire questi fondi qua e poi da gestire al meglio questi fondi ed è già sufficiente. Dicevamo, questa legge sul tartufo, che cosa ne pensa il sindaco? Ricordiamo brevemente anche che cosa prevede, c'è stata una regolamentazione. Sì, è una piccola rivoluzione che si prospettava da tanti anni, è veramente andata a buon fine e intanto prevede l'abbassamento dell'IVA al 5%, equiparando ad altri prodotti e rendendo competitivo il prodotto italiano con il prodotto francese, spagnolo, con quello europeo. Chiaramente parliamo anche di, soprattutto di tartufo nero in questo caso, perché il tartufo bianco per fortuna c'è solo in Italia e nelle nostre zone, per cui, però del nero, insomma l'IVA al 5% è una bella, è stato un bel risultato, ma soprattutto quello che può emergere è la tracciabilità, perché c'è una zona di forfè per il cavatore, fino a 7.000 euro, deve solo pagare una tassa forfettaria di 100 euro che si aggiunge al costo del tesserino, fino a 7.000 euro è sufficiente quella tassa e quindi può cedere i tartufi al commerciante che gli acquista appunto un'IVA agevolata. Ovviamente i tartufai professionisti hanno la partita IVA e gli venderanno con partita IVA e gli fattureranno e gli verranno tassati, insomma, come reddito. Invece, ecco, si mantiene questo carattere anche di obbistico della raccolta dei tartufi, perché veramente la Colagna coinvolge tantissima popolazione, per cui mette a sistema la filiera, per cui è una cosa che è stata accolta positivamente, ovviamente dai commercianti, ma anche dai cavatori. Quindi c'è grande soddisfazione che speriamo possa essere il modo per togliere e risolvere qualche problema fiscale. Ma come dicevo anche prima, la tracciabilità è importantissima. Poi a quel punto vedremo dove vengono raccolti, avremo la conferma che i tartufi sono raccolti nel territorio, perché il cavatore deve dire chi è, ovviamente, e quindi dove li ha raccolti. Per cui è una bella cosa per il prodotto locale e anche per il commercio del nostro territorio. Per Colagna il tartufo non è solo la fiera che facciamo, la fiera del tartufo bianco, abbiamo fatto la fiera del tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, tartufo agli aperti, sono tantissime le iniziative, ma è un'industria legata al tartufo, che è una delle principali industrie di acqua lagna, quindi con degli occupati veri, con degli impiegati. Il tartufo un po' tutto l'anno anche da voi, il mese scorso c'è stata la 36esima edizione anche di quello nero, il carnevale, avete lanciato addirittura tartufo. Noi condividiamo durante il carnevale il tartufo con gli amici di acqua lagna, con gli appassionati di tartufo, quindi adesso sta per finire la stagione del nero, del bianchetto, ci sarà un periodo di fermo, poi si ripartirà con il nero estivo e con la fiera del tartufo nero estivo e con tartufaia aperte, che è una cosa molto divertente, perché consentiamo ai turisti, agli appassionati di fare la ricerca del tartufo con il cane in una tartufaia. Ormai i nostri paesaggi sono caratterizzati da queste tartufaie. Ci sono anche i giovani che si approcciano un po' a questo mondo. Sì, perché c'è una tradizione che viene tramandata, per cui comunque passeggiare nei boschi con il cane è sempre una cosa che di per sé è bella, quindi a questo anche costa molto fatica, perché non è che è una passeggiata così, però insomma... Unisce il piacere, la passione, insomma un po' di attività. Assolutamente, quindi c'è la possibilità di integrare il reddito e di visitare i nostri boschi meravigliosi, che poi è anche un modo per... il tartufo è un indicatore biologico, per cui ci dà anche un po' l'indicazione di quello che è lo stato di conservazione del bosco, quindi l'attenzione che deve essere fatta. La pioggia di stasera è benedetta per il tartufo, insomma era un po' di tempo che non pioveva, quindi non solo per tutta l'agricoltura, ma per il tartufo. Quindi la legge è una bella cosa e farà in modo appunto che l'industria del tartufo d'Aqualagna potrà avere sicuramente beneficio e spero che possa averlo anche dal Museo del Tartufo, che poi è un'altra grande realizzazione. Ne parleremo fra pochissimo perché abbiamo un altro messaggio per lei, prima abbiamo parlato di lavori di asfaltatura, è proprio qua, ritorniamo. Riguardo le strade comunali, la strada per Castellaro ha veramente bisogno di manutenzione, ci scrivono, rientra nei programmi? Allora, che abbiamo bisogno di manutenzione, onestamente, insomma c'è qualche tratto, qualche tratto sicuramente, ma no, non saranno investiti in prima battuta su quella strada lì, perché ce ne sono altre messe peggio, per cui cercheremo di… Dicevamo di questo Museo del Tartufo, anche qui un'altra chicca, molto molto bello, dovremmo avere anche delle immagini, eccole qua, Museo del Tartufo di Acqualagna, e ci sono diverse, insomma, innovazioni, tecnologie, avete messo a disposizione in pochi metri quadri un grande mondo, pochi non sono, però si può trovare davvero di tutto. Sì, è concepito come punto di partenza dell'esperienza legata al tartufo in Acqualagna e racconta un po' quello che rappresenta il tartufo per Acqualagna, nel corso appunto della storia, quindi le tradizioni, e vogliamo che sia divertente, abbiamo voluto che fosse divertente anche per i più piccoli, per i bambini, quindi… Certo, c'è un teatro non virtuale, un po' le storie anche dei cavatori, di rami, insomma, avete fatto rientrare tutto… Un po' tutto, quindi la parte scientifica per i più appassionati, quella più informativa, l'odore, le immagini, i video, e poi la parte un po' più interattiva, c'è un banchetto rinascimentale dove si vede nel corso del tempo come cambiano le varie ricette con il tartufo, e poi c'è la cucina, la cucina per i corsi di cucina, per appunto gli show cooking, per la degustazione, per la presentazione dei prodotti, e per le scuole, perché poi è questo che vogliamo, vogliamo puntare sulle attività didattiche, scolastiche, utilizzando anche il mercato coperto del tartufo, quindi un altro spazio vicino al museo, e quindi soprattutto raccontare, ecco, anche al turista che arriva l'acquolagna, capisce di cosa è il tartufo, quindi non parte dalla fine, cioè dal piatto, dal tartufo sopra il piatto, ma parte dall'inizio, quindi dove nasce, come nasce… Fate sviluppare tutti i cinque sensi… Esatto, esatto, insomma, e poi apprezza di più anche il piatto, quando vede che nasce al furlo, che viene raccolto dal cavatore, che ha un rispetto per il cane, per il bosco, e come viene lavorato, e quindi la parte finale… La Roma è solo la parte finale di un percorso che crea molto interesse. Questo ovviamente è un turismo tutto l'anno, non solo per le manifestazioni che sono tante, sono tutto l'anno, ma in qualsiasi momento dell'anno si può venire, si parte dal museo, si arriva nel bosco e si finisce nei laboratori di trasformazione, e soprattutto nei ristoranti che sono i migliori ristoranti per la lavorazione del tartufo, insomma, quelli di Acqualagna. E con lei parlava di turisti, però, insomma, anche proprio per i curiosi della nostra provincia stessa, una visita al museo è proprio interessante. Avete già una valutazione degli ingressi, insomma, vedete, ci sono persone curiose di sapere la storia un po' del tartufo di Acqualagna. Sì, è partito molto bene perché l'abbiamo inaugurato nella scorsa fiera, nell'ultima edizione della fiera del tartufo, quindi con tanta gente, è veramente stato molto apprezzato. Abbiamo fatto la chiusura estiva perché comunque gennaio, febbraio sono mesi di turisti, no? Sono sicuramente... Quindi ripartiamo ora con altri allestimenti nel mercato coperto, appunto. Quindi vediamo ora anche chi gestisce, è chiamato a fare, insomma, a richiamare i turisti appunto durante tutto l'anno, non solo quando sono tanti in Acqualagna, durante le manifestazioni. Quindi va fatto un lavoro certosino, abbiamo già stilato una collaborazione con il consorzio Frassassi, quindi con la grotta di Frassassi e con Gradara, un incontro della settimana scorsa. Quindi cerchiamo di, anche con il Palazzo Ducale, quindi cerchiamo di creare una rete di eccellenze, fare sinergia e per rendere attrattivo il nostro territorio, la provincia... la provincia, esatto, e la regione Marche. Cerchiamo di dare il nostro contributo come Acqualagna per rendere appunto il turismo nelle Marche più competitivo. Parlamo poco fa di tecnologia di ultima generazione, un argomento che interessa anche il cinema, un po' il cinema dell'entroterra. Beh, sì, il cinema è un altro motivo di orgoglio perché è difficile fare, mantenere una sala appunto con un bacino che è ristretto. Il gestore Danilo Baldini è favoloso, è fantastico, ci mette tanti impegni, tante passioni e questo è riconosciuto. Ma la carta vincente è la tecnologia, che è quella, la tecnologia digitale, è quella per tutto della multisala, per cui grande qualità a costi più bassi, più contenuti per ovvi motivi. Quindi è un grande attrattore e anche, insomma, rende vivace la piazza perché le proiezioni sono tutte le sere, il pomeriggio... E non è semplice, insomma, mantenere aperto un cinema in l'entroterra tutti i giorni. Noi gli diamo una bella mano perché cerchiamo di... Abbiamo considerato strategico questo posto per la cultura, per il luogo di aggregazione che riveste, anche per l'animazione e per la velocità del centro storico. Per cui parliamo di 20.000 ingressi, insomma. Spero che il Museo del Tartufo ne faccia altrettanti. Speriamo anche molti giovani fra questi, no? Alla fine è sempre cultura, di cultura si parla. Sì, assolutamente, cultura cinematografica. Passiamo da un argomento all'altro. Il furlo, un altro gioiellino dell'entroterra, questa riserva statale naturale. Eccole qua, vediamo le immagini. Sicuramente è un punto anche qui di attrattiva, insomma, per turisti e non solo. Qui ci sono degli interventi pubblici che sono stati fatti. Sì, sempre tramite finanziamenti del GAL Montefeltro abbiamo realizzato un parco avventura. Quindi cercare di aumentare l'attrattività della riserva del furlo, che solo passeggiarci già vale la pena, o fare le escursioni in montagna, cercare di vedere l'Aquila. Sono tante la Golena, il Museo del Territorio. Quindi gli interventi sono stati in questo parco avventura, che ora sarà anche ampliato, perché dopo un paio d'anni va modernato. dei giochi più piccoli nel parco pubblico della Golena. Il Museo del Territorio della Riserva è stato potenziato, con il Museo dei Fossili. E poi una chicca che è fanese, tutta fanese, perché è il Museo del Riciclosauri. Noi siamo molto contenti che questi ragazzi abbiano deciso di investire al furlo e realizzare questo museo, che con la riserva del furlo ci sta proprio benissimo. Anche lì poi è amatissimo dei bambini. Assolutamente, assolutamente. Quindi questa della rete museale, il Museo del Tartufo, il Museo di Enrico Mattei, che è in grado di veicolare molte scolaresche, perché c'è grande attenzione per Enrico Mattei, il Museo Archeologico, la Via Flaminia. Insomma, parliamo di questo collegamento che nel corso degli anni ha rappresentato una grande via di comunicazione. Dobbiamo lavorarci anche dal punto di vista turistico, con Fanno lo stiamo facendo, con i comuni della Via Flaminia. E il Museo del Riciclosario. Quindi ecco, una rete museale che inizia a essere da un punto di vista turistico insomma attrezzata. Torneremo a parlare di questo e tanto altro fra pochissimo, perché andiamo qualche istante in pubblicità. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Acqualani, Andrea Pierotti. Vi ricordo che potete intervenire o mandarci qualche messaggio anche con Whatsapp, i numeri che vedete in sovrimpressione. Sindaco, parlavamo appunto di questo splendido parco, il furlo, insomma davvero meraviglioso. Tanto ancora si potrebbe fare, quindi ancora manutenzione dei sentieri, eccetera. Novità anche per un B&B? Sì, ecco, grande soddisfazione all'investimento che viene fatto, anche la componente degli investimenti esteri in Acqualania è importante. Quindi ci sono degli stranieri innamorati dei nostri territori. Un francese in particolare ha acquistato una vecchia caserma delle forestali e ne ha fatto, ne farà, ne sta facendo un B&B di lusso, insomma. Quindi va a aumentare la capacità ricettiva di qualità del nostro territorio e ha scelto il furlo. Quindi questo ci conforta in alcune scelte fatte e ci rassicura anche che per il futuro, per il furlo, ci possa essere veramente anche una riqualificazione dal punto di vista architettonico-urbanistico, perché sta vivendo un'evoluzione, è cresciuto molto dal punto di vista turistico, però sì, sul furlo c'è ancora tanto da fare sulle modalità di gestione della riserva, i sentieri. Io chiamo a raccolta un po' tutti i primi sindaci, i primi cittadini, i sindaci dei territori della riserva, ma non solo, perché è un patrimonio che non è ovviamente solo di Acqualania, ma di tutta la provincia, perché è un grande attrattore e per cui c'è tanto lavoro da fare. Vorrei farlo insieme a tutti gli stakeholder, come si dice. E a proposito di coloro che lavorano un po' in questo settore, nel settore del commercio, qual è la situazione, l'area che si respira nel centro storico? Solitamente, non visto anche le grandi distribuzioni, eccetera, si sente un po' la crisi. Nel centro storico di Acqualagna? Sì, diciamo che si è sentita ormai da qualche anno, l'abbiamo un po' assorbita. Chiaramente, ecco, le dinamiche dei centri commerciali, del commercio elettronico, che hanno cambiato un po' gli usi, i costumi di tutti, hanno delle ripercussioni nei centri storici. Ed è un peccato, perché ovviamente poi la sensazione è quella del declino. Quindi cerchiamo di invertire questa sensazione. Il turismo, l'anagostronomia può fare questo. E devo dire che c'è stata una sostituzione, ecco, dei negozi tradizionali con la ristorazione che non è sicuramente diminuita, qualche negozio di prodotti tipici. Quindi magari meno abbigliamento, più prodotti del territorio. Esatto, è questo. Chiaramente non è facile, non è facile, quindi do tutto il mio incoraggiamento ai commercianti, agli operatori, a tutti quelli che si impegnano e lo fanno ovviamente per se stessi, ma anche per cercare di presentare ad Acqualagna durante tutto l'anno, non solo durante la Fiera del Tartufo, in maniera insomma adeguata anche dal punto di vista della rete commerciale. Beh, quello insomma un po' il vostro punto forza, il prodotto tipico del territorio. Ci scrivono bravo Andrea, un sindaco capace, umano e concreto. Quindi ecco, poi facevamo prima questo bilancio dei dieci anni, qualche cittadino soddisfatto. Dopo mi dici chi è. Dopo le faremo sapere. Anche sul cimitero siete intervenuti? Sì, sì. Ecco, anche da questo punto di vista perché non è uno di quegli investimenti che si preferisce investire su altro, ma non possiamo non considerare di dare una giusta collocazione anche ai defunti. Per cui chi arriverà si troverà da questo punto di vista in una situazione tranquilla, nel senso che sono a disposizione di tanti loculi, perché abbiamo fatto il sesto realizzato, finito, completato, un altro padiglione, il sesto stralcio dell'ampliamento del cimitero che poi è un luogo molto bello di Acqualagna. Non so se in questa immagine si vede perché è in alto e quindi ecco... Anche lì è stato fatto un lavoro. Sì, è stato fatto un lavoro importante e ora si potrà, ecco, ci sono disponibilità di spazi. Dicevamo prima, abbiamo accennato questi lavori anche per il marciapiede, praticamente il Comune insieme a Marche Multiservizi ha avviato questo intervento di sistemazione e di adeguamento dei marciapiedi lungo via Flaminia. A che punto sono i lavori? Il cantiere si è concluso? C'è ancora qualcosa da terminare? La fase di rifacimento dell'acquedotto e di tutti gli allacci che dovrebbe anche mitigare delle problematiche con l'acqua che ci sono in quella zona lì e da qualche giorno è partito la realizzazione del nuovo marciapiede quindi un marciapiede degno di un centro storico con una illuminazione appunto bella dal punto di vista estetico e un po' di arredo urbano quindi rifare una piccola piazzetta un po' più di parcheggi l'isola ecologica fatta bene quindi via Flaminia che è un centro storico a tutti gli effetti con tante attività potrà vedere questa nuova insomma ecco la segnaletica perché anche la segnaletica stessa vedere che non ci sono più le strisce dei parcheggi non ci sono più le strisce dei traversamenti non è bello ogni volta che passo insomma quindi non vedo l'ora di arrivare alla fine di questo intervento di 250 mila euro circa insomma importante che cambierà un po' ecco il volto di quella zona lì del centro di Aqualani mi ha citato le isole ecologiche perché avete introdotto anche la raccolta differenziata finalmente finalmente sì siamo stati dopo anni siamo stati tra gli ultimi a partire con il nuovo sistema di raccolta porta a porta domiciliare dell'indifferenziato è partito bene quindi io mi complimento con i cittadini e con lo sforzo che fanno che dobbiamo fare tutti ormai le tematiche ambientali c'è una grande sensibilità abbiamo superato da giorni quindi non potevamo fare diversamente ma per una serie di motivi siamo partiti tardi i dati di marzo sono buoni per cui l'obiettivo è essere tra i comuni ricicloni ovviamente in questo nel 2019 e poter ma non tanto per il riconoscimento ma proprio perché c'è una coscienza un senso del dovere insomma di riuscire a raggiungere queste percentuali di raccolta differenziata di recupero e di trasferirle anche ai più piccoli che comunque sono molto più sensibili dei grandi e magari diventerete un comune riciclone ci manca ci manca ci manca quello attestato lì è tempo di bilanci non soltanto per lei ma anche per il comune stesso è già stato approvato? no lunedì andremo abbiamo portato già in giunta gli allegati quindi lunedì andremo in consiglio comunale per questo ultimo bilancio di previsione e quindi abbiamo mantenuto le tariffe non abbiamo mai aumentato tariffe dei servizi a domande individuali come il trasporto scolastico la mensa l'asilo nido quindi veramente anche quest'anno senza aumenti e anche con qualche finanziamento extra che ci consente di andare a ridurre l'anticipazione di cassa e appunto altre questioni finanziarie che per un cittadino ci pensa poco ma io ci tengo molto invece a a gestire il comune con il buon senso del padre di famiglia e quindi consegnarlo ai futuri cedini d'acqualagna senza problematiche finanziarie ci scrivono ancora dei complimenti per lei Andrea Pierotti grande sindaco grande impegno e tanta umanità diceva dei dei giovani che sono il futuro e lei visto che è al suo secondo mandato non potrà ricandidarsi alle prossime elezioni comunali che cosa farà poi? beh continuerà le regionali oppure prenderà insomma una pausa? ma io se dovesse esserci come si dice sempre un po' politichese ma se ci dovesse essere la necessità di mettere a disposizione la competenza sviluppata un po' di capacità e posso sono disponibile posso valutare in questa fase sono molto concentrato ad assicurare una continuità all'amministrazione e a riprendere a lavorare a tempo pieno non ho mai smesso perché concepisco insomma come ormai quasi tutti i sindaci gli amministratori come veramente una parentesi per cui non ho mai smesso di lavorare ora tornerò a lavorare a tempo pieno e si apre una nuova fase professionale per cui la vivo con grande serenità questo momento e poi per la carriera politica in questa fase non è ecco in cima i miei pensieri che lavoro svolge il sindaco? sono una delle tante partite IVA mi occupo di finanziamenti lavoro per la Montefeltro Sviluppo e in questa fase ecco ho questa collaborazione dovrò andare a riprendere le collaborazioni che avevo prima di fare il sindaco e tutte le attività che avevo prima di fare il sindaco e sono già usciti allo scoperto dei possibili candidati a sindaco? beh sì diciamo per la Lega Nord sì c'è già il candidato sindaco che si è presentato in Acquolagna invece diciamo ora i tempi sono un po' più compassati rispetto ad anni fa quando la campagna elettorale cominciava molto prima ora non c'è questa esigenza e sì sono cominciati una serie di ragionamenti io ho dato il contributo il mio contributo a cercando di trasferire una serie di informazioni di conoscenze che ho maturato quindi cercare di far sì che questo passaggio sia il meno traumatico possibile ma anche chi si insedia abbia subito ben chiara qual è la situazione per cui ho motivato tra virgolette un gruppo di giovani che hanno voglia di amministrare e questa è una cosa non scontata che mi ha dato grande soddisfazione perché ci dovrebbe essere questo senso civico di dovrebbe essere quello dell'amministratore un passaggio che ognuno nella sua vita deve in qualche modo fare perché si rende conto di cosa vuol dire amministrare si rende conto di tante cose ne guadagna come persona e come cittadina soprattutto per cui c'è questo bel gruppo di giovani speriamo che sia cappeggiato da una guida che possa sfruttare al meglio queste energie e vive che Acqualagna è ancora in grado di produrre quindi per ora non c'è un suo vice o un assessore che si ricavita però siamo in una settimana decisiva per cui nel giro di ecco di un paio di settimane i giochi saranno fatti e si iniziarà la campagna elettorale a tutti gli effetti parlavamo di bilanci però gli eventi sono assolutamente confermati anche per il 2019 assolutamente abbiamo già iniziato a lavorare per la fiera del 2019 perché lavoriamo un anno prima come tutti i grandi eventi quindi sempre stesso periodo rimane il periodo è lo stesso l'ultima domenica di ottobre e poi il ponte dei santi dei morti che appunto si prende con la domenica e c'è sempre una giornata di due o tre giorni di fila che sono tra i più tra i più belli e poi le altre due domeniche le prime due domeniche di novembre quindi già stiamo lavorando a quella edizione lì ma stiamo lavorando ovviamente a tutte le come se non ci fosse soluzione di continuità stiamo lavorando agli eventi siete anche alla ricerca dei grandi ospiti perché quelli non mancano mai esatto non mancano mai e anche quest'anno siamo partiti anche da lì ovviamente cercare l'ospite sempre un po' il ciro lacchiello che ti dà un po' di visibilità che ti caratterizza la fiera insomma la distingue anche da altre manifestazioni per cui sì siamo alla ricerca di qualche ospite di punta ci scrivono ancora persona profondamente onesta e limpida sindaco illuminato se ne fossero ecco quindi insomma per lei sostanzialmente oggi non richiedono la copertura di buche o insomma richieste particolari ma le fanno i complimenti evidentemente sono rimasti soddisfatti da questi suoi dieci anni sì lo spero io non mi sono risparmiato ho cercato di dare le risposte a tutti con grande umiltà e con grande passione studiando quindi poi mi raccontava anche quando non eravamo indietro insomma che lei è disponibile incontra spesso i cittadini anche nelle vie di acqualagna proprio per ascoltare i loro problemi raccogliere le loro istanze diciamo come tutti i sindaci dei piccoli comuni è facile poi siamo sempre lì quindi per questo temevo che ci fossero poche richieste poche domande in realtà e poi c'è meno remora nel mandare il whatsapp il messaggio whatsapp nel fare la domanda su facebook e quindi glielo chiedono direttamente piuttosto che passare dagli uffici insomma tutta la parte burocratica non ci sono filtri e questa è una cosa che è evidentemente apprezzata perché ho preso a cuore un po' tutti i problemi che si sono creati di tutte le persone non li ho risolti tutti ovviamente però forse ecco è emerso questo veramente insomma la voglia di stare vicino alle persone in momenti di difficoltà in particolare ce ne sono stati in questo periodo perché in dieci anni veramente sono cambiate tante cose che cosa si auspica comunque vada per Acqualagna c'è qualcosa su cui lavorare prima diceva gli impianti sportivi ma c'è anche dell'altro qualche non so qualcosa da ristrutturare manutenzioni strade centro storico diceva lì ci lavorerete i quartieri con questi 3 milioni e 2 andiamo a fare parecchie cose sistemare parecchie cose poi ce ne sono tante tante altre non si finisce mai di fare la manutenzione dei beni comunali e di molto sulle piste ciclabili in particolare al Furlo quindi questa connessione di tutto il Comune di Acqualagna di cui siamo già partiti perché abbiamo incomodato d'uso gratuito l'ex percorso ferroviario della Sant'Arcangelo Fabriano quindi da Pole da questa frazione da Acqualagna fino al Furlo abbiamo già realizzato metà del percorso l'obiettivo è completare l'altro metà in modo da garantire questo percorso in sicurezza di tutto il Comune nei nostri paesaggi bellissimi e una sorta di traffolloruta anche per i turisti quindi che mette in evidenza quali sono i punti di raccolta del tartufo i punti di trasformazione i punti di degustazione e ovviamente il Museo del Tartufo è un punto da questo punto di partenza quindi c'è tanto da fare c'è ancora tanto da fare io sono disposto a lasciare un dossier a chi subentrerà perché un po' ecco le cose che non sono riuscito a fare ma che mi sono segnato può essere la prima base per la prima bozza di programma per la nuova amministrazione sono disposto a consegnare oltre un po' di informazioni anche queste idee che ho avuto ma non ho potuto realizzare quindi si metterà a disposizione dando la sua competenza anche a questi giovani che vorrebbero intraprendere la carriera politica assolutamente ai giovani bisogna stare molto vicino per cui nonostante ecco gli impegni che ormai è giusto che concentrarsi sulla famiglia con la famiglia perché dieci anni ecco vogliono dire tanto l'hanno supportata l'hanno supportato sì l'hanno supportato però il supporto non è sufficiente perché insomma spesso poi si finisce per pensare al tempo sottratto alla famiglia no a mia figlia quindi non è sempre facile poi quando nei momenti di difficoltà ci si mette anche questa riflessione per cui voglio recuperare se possibile anche quel tempo lì l'aspetto privato quindi professionale e familiare e noi glielo auguriamo sindaco prima di salutarla vorrei ricordare tutti i nostri telespettatori che fra poco trasmetteremo il TG di mezzasera e poi la partita di pallavolo di serie A2 della Golden Plus Potenza Piccena che ha vinto 3-2 contro il Livorno sindaco è stato un piacere averla il nostro ospite speriamo di incontrarla presto come sindaco come insomma altro amministratore vediamo un altro ruolo grazie grazie mille a voi buona serata buon lavoro perché ancora due mesi sono impegnativi sono intensi ci sono tante cose da fare grazie ancora al sindaco di Acqualagna Andrea Pierotti e grazie a voi per averci seguito buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti